Signori, attenzione borse giacrici, pickpocket, signori, attenzione ai portafogli, eccola qui, da Venezia pickpocket, a pickpocket, perché lo sta facendo? Adesso è a Milano, non sta più a Venezia. Perché sono a Milano oggi, da Venezia sono venuta a Milano per trovarvi. Ah, ci c'ho ragazzo. Eh sì, come fate voi? Allora vado a fare bene tutti quanti, un pochino. Attenzione borse giacrici, pickpocket, eccomi da Venezia a Milano, signori, attenzione borse giacrici, pickpocket. Sono vergogna, vergogna. Attenzione borse giacrici, pickpocket, carterista la droga, pickpocket.